Quale sarà il destino delle province e dei dipendenti provinciali? I dipendenti continueranno a fare i dipendenti delle province, altronde quando Del Rio o Chiperlui, Renzi stesso, dicono che ci sarà un risparmio, mentono ai cittadini sapendo di mentire, in realtà i dipendenti delle province rimarranno tali e quali. Il destino delle province sarà lo stesso destino del nostro paese, cioè un fallimento assoluto. Questo paese è un paese ormai morto, che ha bisogno di riforme strutturali importanti. Io dubito che queste possano arrivare, se arrivano siamo tutti felici. Non sono molto fiducioso, visto la classe dirigente che ci ritroviamo, io credo che l'unica via possibile, e noi l'abbiamo dimostrato sabato e domenica, sia quella dell'indipendenza del Veneto.